Buongiorno a tutti, allora film pittina da brrrr che freddo che fa perché abbiamo da recuperare un paio di gare ancora e piano piano le recuperiamo tutte. Oggi recupereremo la discesa libera femminile di Lake Louise del 3 dicembre 2022 e la discesa libera di Lake Louise, sempre femminile che non l'avevo detto prima, del 4 dicembre 2022. Adesso faremo quella del 3 dicembre, poi faremo quella del 4, così almeno cominciamo a proseguire, ma tra una e l'altra metterò delle news e delle cold news, quindi farò un video di sci, un video di news, un video di sci e un video di cold news. Dopo questi quattro video faremo anche il video sul finale terzo e quarto posto del mondiale. Detto questo, ragazzoli, discesa libera femminile di Lake Louise 3 dicembre 2022. Andiamo a vedere com'è andata, perché la prima a scendere è la Nuffer, una sciatrice che se sfrutta l'occasione di partire per prima può fare molto molto bene. Il suo tempo finale è 1.30.88, diciamo che i due cronisti erano un po' di na, nel senso non sapevano cosa dire, non erano molto convinti, ecco, per intenderci della sua performance. Però hanno detto, è la prima discesa, non abbiamo punti di riferimento, eccetera, eccetera, non è facile dire, è andata bene, è andata male, eccetera, aspettiamo di vedere le altre. E, signori miei, la seconda a testare la gara della Nuffer è una che è libidine, la Miradolì, la Romain, Romain, già il nome Romain, che bello. Poi anche non è neanche male la Miradolì, è francese, c'è solo quel difetto. Tocca alla Miradolì testare subito la gara appunto della sciatrice svizzera. In attesa di tutte le altre sciatrici, la francesina si prende nettamente la prima posizione con ben 66 centesimi di vantaggio. Allora, se la Nuffer ha fatto un'ottima gara, la Miradolì può puntare in alto. Se la Nuffer ha fatto una gara un po' così cos'ha, la Miradolì potrebbe stare forse nelle 10. Vedremo, vedremo. Voi sapete benissimo che io non so nulla, non guardo mai, anche se le vedo indifferite, non guardo mai com'è andata la gara, proprio per non lasciarmi influenzare. Tocca alla Halle, pettorale numero 6. Ottima gara della sciatrice svizzera che si prende a sua volta la prima posizione con ben 67 centesimi di vantaggio. Poglio possibile. Forse no, ma prime 10? Diciamo che prime 10 con vista sulle prime 5 può essere. Però adesso tocca alla Suter. Pettorale 8, una delle favorite e seconda della gara del giorno prima. La Svizzera non tradisce e per ora si mette davanti per 22 centesimi sulla connazionale. 22 centesimile. Attenzione perché la Suter è brava. La Suter, signori, è brava. Quindi dare solo 22 centesimi alla Miradolì vuol dire che la Miradolì ha fatto una buona, 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 anzi la Ellen, scusate. La Ellen, non la Miradolì, la Ellen. Tocca alla nostra Nadia del Lago. Ragazzi miei, non ci siamo. La dieta non è in forma, non è carica, non è, non è, non è, diciamo non è, non è, non è. Perché non è stata una buona gara, è soltanto undicesima e in più il ritardo è pesante, un secondo e 78. Spero riesca a rimanere nelle 30, ma la vedo un po' così così, vedremo, vedremo. E adesso, adesso, andate via, no scherzo, adesso tocca a lei. E lei, o non è lei? E lei, o non è lei? Certo che è lei. Con il pettorale 13 scende la nostra Sofia Goggia. La donna Raz, la donna Jet, o la donna Missile, a vostra scelta, o tutte e tre assieme. Sfida Miss con l'elvetica. Vediamo se la donna, appunto, Razzo Jet Missile, ha ancora della bella benzina per andare giù a Missile, appunto, e battere l'elvetica. Ce l'ha, ce l'ha, e ce l'ha anche in abbondanza perché si prende il primo posto con ben 37 centesimi di vantaggio. Adesso voglio vedere chi la batte, e voglio vedere chi riesce a batterla. Con il pettorale 18 scende la nostra Laura Pirovano. Purtroppo è stata, come si dice, un po' troppo accorta, e alla fine il distacco è pesante. È diciassettesima con ben due secondi e 54 nella compagnia di squadra. Mi sa che è dura restare delle 30, però, 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 mettiamo un po' poppero, però. Con il pettorale 19 scende la nostra Ilena Curtoni. Stava facendo bene al secondo intermedio, aveva solo 28 centesimi di ritardo, ma poi perde tanto nella parte finale. Alla fine della fiera è decima, con un secondo e 46 di ritardo, può stare nelle 15, anche perché oramai le migliorissime sono scese, quindi le altre che arriveranno, sì, magari una o due, massimo tre, potrebbero anche entrare nelle 10, ma penso che un quindicesimo posto è abbastanza tranquillo, sicuro per la nostra Elenina, magari anche qualcosa meno, quindi dodicesima, undicesima, eccetera. Vedremo, vedremo. Con il pettorale 20 scende la nostra Federica Brignone. Inizio promettente, poi come Elenina perde un sacco sul piano finale, ma proprio un sacco, e si becca la bellezza di 2 secondi e 43 di ritardo ed è diciottesima. Male, male, male per Federica, non va bene. NCS non ci siamo, non ci siamo proprio. L'aspetteremo nelle gare successive. Con il pettorale 21 scende la nostra Marta, martissima, mazzino. Anche lei perde tantissimo nel tratto finale, ma non come la Brignone. Però il ritardo è sempre pesante, 2 secondi ed 11. Certo, ha fatto 31 centesimi meno nella Brignone. È quindicesima, però con 2 secondi ed 11 di ritardo, temo, temo che qualche posizioncella la perderà ancora. Beh, dura, è dura, dura. Tocca la nostra Nicole de Galago. Pettorale 25. Oh, finalmente una bella prova di una scettrice a Zolva. Goggia a parte. La Goggia la mettiamo a parte, perché lei è a parte. Eurotrima, tranquilla, missile, razzo, getta, eccetera, eccetera. Le altre, per ora, come si diceva, scalchignano, scalchignano. Così imparate un nuovo termine, scalchignare. In ogni caso, si prende un'ottima sesta posizione libidine, con un ritardo di 1,05. Questa è una botta, PAM, di autostima, mica da ridere. Poi non è che succeda granché di eccezionale. Sì, qualcuna si inserisce tra le prime. Da notare la Hortlib, che fa una gara da libidine, e si inserisce al secondo posto. Ma poi per il resto non succede nulla di eclatante tra le prime dieci. E quindi la classifica finale vede Bira Sofia Ha vinto ancora sì, ha vinto ancora ore. Quindi prima Goggia Seconda Hortlib Terza Suter Quarta Höllem Quindi la Höllem, quarta, eh ragazzi? La Höllem, pettorale 6 Quarta Gran bella prova della Svizzera Quinta la Stueck Sesta la Puckner Settima la Nicole Delago Ollibidine perché c'è il settimo posto Ollibidine Ottava la Ghisin Nonna la Bovinch E decima la Miradolì Che alla fine Bel decimo posto l'ha portato a casa Per quanto riguarda le altre italiane La Curtoni ha perso due posizioni Ed onicesima La Bassino ha perso qualche altra posizione Cella è ventiduesima La Nadia Delago è ventitreesima La Brignone è ventottesima Ahimè, la Pirovano Ahimè, la Pirovano Mannaggia, mannaggia Trentunesima fuori dalla zona punti Per pochi centesimi Eh, vabbè Sarà per la prossima volta Ma sta tornando, eh La Laura sta tornando Non è che Laura non c'è Laura sta tornando Eh Ci aspettiamo tanto dalla Pirovano, eh Infortuni permettendo Questo è un talentino Però speriamo non si faccia Toccatina, ci vuole Che non si faccia male di nuovo Perché veramente È troppo sfortunata sta ragazza Perché di talento ne ha da vendere Potrebbe inserirsi con le altre Tre, quattro del trio, no? Sofia Federica Marta E diciamo anche Elena E poi ci sono le altre La Nadia La Nicole E la Laura Potrebbe inserirsi anche lei Tra di loro E di oltre di voi Come cantava quello là E non sarebbe male Sarebbe importante Perché lo sci femminile Ha bisogno di Nuovi prospetti Perché Federica ormai Ne farà 33 L'anno prossimo Perché è nel 90 E le altre Sono giovanissime Cominciano a aver superato I 25 E quando cominci a superare I 25 Non sono più giovanissime Ecco per intenderci Sono giovani E ci mancherebbe Però per lo sci Capite che Molti sciatori Intorno ai 30 31 32 33 34 Anni Fanno ciao Mica Tutti sono come Il buon Sciatore francese Che adesso Non mi soviene Che a 40 E passa anni O come Deiman Che nonostante Abbiano superato Gli alta Decidono di andare avanti Perché la voglia C'è ancora Anche se i risultati Sono quello che sono Quindi abbiamo bisogno Anche che arrivino Le nuove leve E quindi abbiamo bisogno Le varie Laura Pirovano Nadia De Lago Nicole De Lago Eccetera 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 Che anche loro Non sono più Le nostre piccoline Sia Nicole Che Nadia E anche Laura Mi sa che non è più Proprio Una diciottenne Anzi Quindi Più c'è il ricalzo Di nuove Che arrivano Brave Che crescono Purtroppo Non siamo come In Svizzera O in altri paesi Dove Crescono Come funghi Vabbè Staremo a vedere La proseguiva Nella stagione La goggia Ormai È una certezza Quindi Ci sono i mondiali Quest'anno Quindi ci sarà Da divertirsi Ci saranno Le olimpiadi Del 2026 Quindi vedremo Chi ci sarà Tra queste Federica ha detto Che ci proverà Ad arrivare Fino alle olimpiadi Del 2026 Però Deve vedere Un attimino La voglia Eccetera Perché l'età Purtroppo Avanzo Magari Si potrebbe bloccare Decidi di bloccarti Io mi fermo A 30 anni E ti fermi A 30 anni Gli anni passano Ma tu resti Trentenne Pur avendo 70 80 E poi quando è il momento Te ne vai Però resti sempre fermo A quell'età biologica Di fisico Che sarebbe Libidine Invece no E invece no Non va così Vabbè ragazzoli Ho un attimino Tediato Come si suol dire Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Alla prossima